Esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più pugno frontale. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Prossimo esercizio. Squat con tocco alle caviglie. Via! Quando scendi, non portare le ginocchia più avanti della punta dei piedi. Non ruotare la ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Corsa skip lenta più power crunch. Via! Se non ce la fai, solleva le ginocchia mantenendo un ritmo sostenuto ma senza saltare. Non curvare la schiena. Quando sollevi la gamba, il busto deve essere sempre dritto. Quindi mantieni l'addome contratto durante tutto l'esercizio. Non poggiare a terra il pallone. Fa' attenzione ad atterrare sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Ginocchiata con calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli con rotazioni. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Mantieni l'addome contratto durante tutta l'esecuzione per avere maggiore equilibrio ed evitare di sovraccaricare la colonna vertebrale. Non piegare la testa. Aiutati guardando un punto avanti a te. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Tieni addome e glutei ben contratti per stabilizzare la schiena ed evitare traumi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli ad una gamba con calcio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e poggia il piede al pavimento dopo la distensione. Non alzare o abbassare la coscia. Tienila sempre perpendicolare al busto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Mantieni l'addome sempre ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack con tocco alle caviglie. 6, 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch cross. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Tieni l'addome sempre ben contratto. Non sforzare il collo. Aiutati guardando un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più pugno frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua solo la corsa con ginocchia alte. Non poggiare a terra il tallone. Termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Twist in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare la ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Saltelli più crunch laterale completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. Non poggiare a terra il tallone. Fai attenzione ad atterrare sulle punte. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Triangolo più plank alta. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rimani in plank e sfoggia le ginocchia a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Per riuscirci, f congratulate spreche! Per riuscirci. Temperatura del cuore. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte di piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank con scalata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantenila parallela al pavimento. Contrae l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Front squat con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni la santa ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tieni le sempre nasse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Camminata sulle mani per ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua solo la camminata sulle mani. Non sollevare la testa. Tieni lo sguardo rivolto al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena. Mantieni la parallela al pavimento. Per farlo, tieni sempre l'addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti. Le spalle sono in linea con il bacino. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Spider-Man plank. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia il piede a terra quando lo porti avanti. Non sollevare il sedere. Schiena e glutei devono rimanere sempre in linea. Per riuscirci, mantieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. Fai attenzione a non flettere i piedi. I talloni devono sempre essere rivolti verso il soffitto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Burpee. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Mountain climbers. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantenila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggior equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Squat più plank and jump. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta di piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Esegui un movimento lento, sia in fase di salita che di discesa. Così, hop! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank alta apri e chiudi gambe. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello. Schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo. La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. 5, 4, 3, 2, 1, stop! La testa deve rimanere sempre in linea con la schiena. 3, 2, 1, via! Prossimo esercizio. Stretching addominale. Via! Non sollevare mai il bacino da terra, così aumenterà l'efficacia dell'estensione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! Non guardare davanti. Rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia. Tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop! 6, 5, 3, 1, stop! Grazie a tutti.